Buonasera a tutti voi dalla TG1, c'è la firma, il memorandum di intesa tra Unione Europea e Tunisia sul tema migranti. Nel paese nordafricano oggi la Premier Meloni con la Presidente della Commissione von der Leyen e il Primo Ministro olandese Ruth. Sul tavolo anche aiuti economici a Tunisi per la stabilità del paese. Un passo importante soprattutto sul fronte delle rotte migratorie. Secondo alcuni report visionati dal TG1 sono 77.000 gli arrivi in Italia dalla rotta del Mediterraneo centrale. Oltre la metà dei barchini che i trafficanti mettono in mare parte dalle coste tunisine dove le autorità hanno bloccato in questi mesi 30.000 partenze verso l'Italia. Sentiamo Giuseppe Lavegna. Le motovedette rientrano in porto dopo l'ultimo salvataggio e un flusso ininterrotto. Nessuna tregua per chi soccorre uomini, donne e bambini che rischiano di morire in mezzo al mare. Sono stati 1.300 i migranti approdati sulle nostre coste nelle ultime 24 ore, quasi tutti a Lampedusa. 30 le imbarcazioni con cui sono arrivati a ridosso dell'isola siciliana, diventato ormai il luogo simbolo di un'emergenza che segna la quotidianità. Altri sbarchi anche nel pomeriggio e in serata. Nonostante i continui trasferimenti, l'hotspot è sempre stracolmo. Sono più di 2.000 anche oggi nella struttura gestita dalla Croce Rossa. Secondo gli ultimi report sui flussi migratori che il Tg1 ha potuto visionare, sono più di 77.000 gli arrivi sul nostro territorio nella prima metà di quest'anno. Più del 50% dalla Tunisia, con un incremento esponenziale quasi 5 volte in più rispetto alla cifra dello scorso anno. Secondo le autorità di Tunisi, altri 30.000 sono stati bloccati alla partenza. Ecco la mappa delle traversate organizzate dai trafficanti di uomini e soprattutto da questi porti che si imbarcano migliaia di disperati in cerca di un futuro migliore. Viaggiano quasi sempre su piccoli e vecchi barchini che rischiano di affondare appena le condizioni meteo peggiorano.